Il Papa è un popolo straordinario Direi che non solo ci è costato molto in passato, ma ci costerà ancora di più nel futuro. Nonostante questo non ci fa paura la strada, non ci spaventa la responsabilità, poiché stranamente abbiamo scoperto che più il mondo si rinnova, più diventano importanti i valori antichi. Anche quando si pensa all'alta tecnologia, per esempio, scopriamo che non ci può essere alta tecnologia se non si segue la verità completamente. Non si possono mettere insieme scienza e menzogna, non ci può essere una bugia scientifica. Quindi per poter introdurre la tecnologia si deve prima perseguire la verità. Non ci può essere libera ricerca, al di fuori di una società libera. Non si può avere la tecnologia senza la libertà. Non si possono avere investimenti stranieri senza trasparenza nei bilanci. Bisogna essere onesti. Così si scopre che stiamo tornando ai dieci comandamenti. D'altra parte, il terrore può esistere solo quando una società è corrotta. Il terrore comincia diffondendo spavento nella società. Quindi più il mondo diventa moderno, più trovano giustificazione i cari vecchi valori. E noi abbiamo bisogno di un mondo che sappia combinare valori antichi e nuovi orizzonti. La paura, come una corrente d'aria ascensionale, fa volare in alto i falchi nei cieli elettorali. In genere è il falco che insegue la colomba. Mai vista una colomba inseguire un falco? Fino a quando e a che punto è disposto a seguire Sharon? Non mi sento come una colomba che qualcuno sta cacciando. Al contrario, ritengo di essere piuttosto una colomba che sta inseguendo i falchi. Poiché credo che non c'è soluzione all'infuori della pace. E non faccio parte del governo perché ho rinunciato ai miei propositi. Sto lì per metterli in pratica. E Sharon lo sa. Provo a fare del mio meglio, giorno dopo giorno. A dispetto del fatto che abbiamo perso le elezioni, stiamo mantenendo aperta la strada della pace. Il cardinale Laghi, in missione in Medio Oriente, ha definito gli insediamenti un'aggressione. A sua volta lo definirebbe un linguaggio aggressivo o un tentativo sincero di rimuovere la causa principale dell'aggressività palestinese verso Israele? Penso che il cardinale abbia compiuto un errore di grammatica dal momento che ha confuso i tempi. Quando si stabilirono la maggior parte degli insediamenti, la situazione era completamente diversa. Non c'erano speranze di pace. Credo che se avessimo pace non avremmo insediamenti. Ma dal momento che c'è stata guerra, gli insediamenti hanno svolto una funzione difensiva. Non si può giudicare il presente da una situazione del tutto diversa che esisteva in passato. Sa, non importa che cosa fa nascere un bambino, l'amore o un incidente di percorso. Una volta che il bambino c'è, c'è. E adesso dobbiamo prenderci cura del bambino. A Natale i cristiani celebrano la nascita del principe della pace, il figlio dell'uomo, che secondo la carne, ci ricorda il Papa, era anche un figlio di Israele. Come figlio di Israele e Nobel per la pace, posso chiederle se lei sente che questa storia in qualche modo la riguarda o le appartiene? Secondo la tradizione ebraica, il primo essere umano fu Adamo. Adamo non era ebreo, né Adamo né Eva. La morale della storia è che tutti noi siamo prima di tutto esseri umani, poi diveniamo ebrei, cristiani, o qualunque altra cosa. Non posso negare l'evidenza storica che Gesù Cristo nacque da una famiglia ebrea. Nessuno ha il potere di cambiare la storia o di modificare il passato. Ritengo, noi abbiamo la nostra concezione, come lei sa, che il Messia non è ancora arrivato, ma non è una ragione per cui non debba rispettare il modo di vivere dei cristiani, il loro credo, e rimanere ebreo allo stesso tempo. C'è molta preoccupazione, non solo nel mondo cattolico, nella cristianità in generale, per l'annunciata costruzione di una moschea a pochi metri dalla basilica dell'annunciazione a Nazareth. Israele è un paese piccolo, ma c'è abbastanza spazio per costruirla altrove, e abbastanza problemi per raggiungerne altri. Siamo profondamente consapevoli della preoccupazione dei cristiani per la costruzione delle moschee, della moschea di Nazareth, e stiamo cercando il modo di non urtare questa posizione. Per adesso, infatti, abbiamo rimandato la costruzione, al fine di cercare un compromesso o un'alternativa. Faremo tutto ciò che possiamo per non ferire i sentimenti del mondo cristiano. Un bel sogno è il più realistico dei programmi politici. Lei è solito dire e il suo sogno è noto. Israele come Venezia, un ponte di rialto tra l'est e l'ovest, ma la realtà non è un sogno, è un incubo. E molta gente al posto di un ponte vorrebbe un muro. Cosa sarà Israele in futuro? la Venezia o la Berlino del ventunesimo secolo? Non si può vivere circondati da mura. I muri hanno perso la loro funzione, poiché ci sono sempre missili che possono sorvolarli. Si trovano sempre armamenti capaci di superare una trincea o un recinto. Non esiste alternativa alle buone relazioni. La migliore arma al mondo sono delle relazioni giuste. E' più importante avere buone relazioni che armi efficaci tra i popoli. Credo che ciascuno lo scoprirà. E ci accorgeremo che le buone relazioni rappresentano la vera risposta politica anche in campo economico. l'Europa. L'Europa versava in guerra in uno stato di belligeranza, separazione e quant'altro per centinaia di anni. Eppure, guardi, nel giro di tre rapidi anni l'Europa è cambiata completamente. Il conflitto politico non è stato risolto per via politica, ma economica e sociale. Quanto è accaduto in Europa succederà in Medio Oriente. Gli altri sono dirigenti di vecchio stampo, non riescono a interpretare correttamente le realtà nuove, ma è solo questione di tempo. E da parte di un uomo come me, penso che il mio contributo possa essere quello di accorciare i tempi tra l'odierna situazione e le soluzioni di domani, visto che il presente reclama vittime, sacrifici, fallimenti. Non abbiamo bisogno di tutto ciò. Non esiste alternativa di nessun altro tipo. Le armi, i muri, gli sbarramenti, uccidere, sparare, non portano con sé nessuna soluzione. Grazie, Mr. Perez. È stato un onore e mi lasci ringraziare l'ambasciata di Israele presso la Santa Sede. Grazie.